questo video utilizzando un telescopio rifrattore vero acoperomatico un tec 140 e un tripletto in un telescopio e l'ho utilizzato per fare un viaggio sorvolando la luna e ho potuto apprezzare in questa visualizzazione il prodotto ampli della ditta dianololli.com che non è un tele extender ma è un vero amplificatore d'immagine è possibile utilizzarlo a tre diverse potenze e combinando tra loro i vari anelli il numero 1 il numero 2 il numero 3 passando da circa 5 volte alla focale naturale fino a 15 e diceva un amplificatore d'immagine nel senso che non si inserisce nel percorso ottico interrompendolo come una barlow ma amplifica l'immagine che arriva dal telescopio e quindi consente di avere degli alti gradimenti senza perdere assolutamente la qualità dell'immagine naturalmente più il telescopio è buono più l'immagine sarà buona se il telescopio è scadente verrà amplificata anche la scadenza del telescopio in questo caso abbiamo utilizzato un telescopio ad alte prestazioni quindi avremo delle belle immagini come potete vedere adesso nel filmato vi auguro buon divertimento grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.